Bentornati a Radio Pugini On Air. Riparliamo di Sanremo 2024 e delle prove. Perché? Perché parliamo delle prove? Perché se le prove generali della prima serata di Sanremo 2024 sono un termometro del gradimento dei 30 brani in gara all'Ariston Febbre Bertè. L'Oredana si è esibita per ultima con la sua pazza, un pezzo che è praticamente la sua autobiografia e la sua performance è stata accolta da una standing ovation. Il brano, già accolto positivamente dalla critica al primo ascolto della versione radiofonica circa tre settimane fa, prende con l'orchestra nuova forza e se L'Oredana non si farà tradire dall'emozione nella diretta del festival si candida a conquistare il cuore degli italiani ed un'alta rotazione radiofonica. Gli unici altri ad aver avuto una standing ovation parziale sono i tre componenti del volo, il cui brano con l'orchestra diventa trascinante e potrebbe ottenere consensi inaspettati al primo ascolto. L'applausometro delle prove ha premiato anche I De Colors, Angelina Mango, Géaulier, Mahmood, Emma e Diodato. Quindi non vediamo l'ora di sentire queste canzoni, io non vedo l'ora veramente di sentire Pazza di L'Oredana Bertè e quindi ci sentiamo in una nuova puntata di Radio Pugini On Air. Ciao!